è in edicola pc professionale di settembre con un numero davvero ricco di novità il primo cambiamento mi riguarda personalmente dopo 17 anni a pc professionale è tempo per me di affrontare la nuova sfida diventando il direttore responsabile è un cambiamento che si riflette già su questo numero prendendo in considerazione tutti quegli aspetti che stanno rivoluzionando profondamente la nostra vita internet delle cose è solo un esempio oggi ci sono già 8 miliardi di dispositivi intelligenti interconnessi tra loro con la rete e dentro il 2020 saranno 20 miliardi nasce così una rubrica in cui metteremo in luce diversi aspetti funzionali tecnici e pratici legati a internet delle cose la tecnologia non crea solo nuovi dispositivi ma trasforma anche quelli esistenti un esempio l'automobile un mezzo nato meccanico ma che oggi non può più far meno dell'elettronica si parla sempre più spesso delle auto a guida autonoma le self driving car è sicuramente il futuro prossimo ma c'è ancora molta strada da fare la rubrica automotive affronterà questo e molti altri temi comprare online direttamente dalla cina un buon modo per risparmiare ma bisogna stare attenti ai rischi è l'argomento di acquistare dalla cina trovate la rassegna dei principali store online cinesi migliori metodi di pagamento e le opzioni di spedizione consigliate la rivista cambia ma il nostro cuore rimane lo stesso continuerete a leggere gli articoli e gli approfondimenti che da sempre ci contraddistinguono l'ultimo argomento che vi propongo non è certo meno importante anzi come potete vedere la nostra copertina è dedicata al freeware e all'interno trovate ben 100 soluzioni gratuite ma adesso vi lascio la lettura mi aspetto i vostri suggerimenti via mail o anche sulla nostra pagina facebook e vi aspetto in edicola il prossimo 5 ottobre